Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlight Books. Il libro di cui mi accingo a parlarvi è il romanzo di un'autrice che avevo già letto in una serie precedente ma uscita con un'altra casa editrice che davvero me l'ha piaciuta molto. Quindi quando ho sentito di questo romanzo non potevo farmelo scappare soprattutto contando il fatto che questa autrice starà presente a Reina di Roma che si terrà il 27 settembre presso il Palazzo dei Congressi. Il libro in questione appunto è questo. Mister Romance di Lisa Raven. Questo non so se è il primo di una serie perché non mi sono informata ma spero già tanto che ci sia un libro dedicato a due personaggi che appaiono qui che sono diciamo un po' le spalle dei protagonisti più o meno anzi della protagonista perché sono collegati soprattutto a lei. Ma devo dire che questo romanzo mi ha davvero conquistata. È davvero una storia romantica, carina, leggera ma anche intensa e coinvolgente perché comunque i due protagonisti anche se sembrano imprescrutabili hanno il loro bel bagaglio di problemi ma il tutto è gestito con una leggerezza e un romanticismo veramente stupendi. Mi accingo a leggervi la trama. Pensate che ho il naso tappato quindi prendo un bel respiro. Max è un uomo bellissimo, carismatico e passionale e ha una doppia identità. No, non è James Bond. Di notte diventa Mister Romance, che è anche meglio secondo me, un escort che può far avverare ogni fantasia. Le regole sono chiare, niente sesso, ma serate di corteggiamento che stanno facendo impazzire donne e ragazze dell'alta società new yorkese. Su richiesta può diventare un presuntuoso miliardario, un cattivo ragazzo con il cuore d'oro o un motociclista ribelle. Max è abile a trasformarsi, ma è molto attento a tenere la sua vera identità segreta. La giornalista investigativa Aiden Tate ha sentito parlare del leggendario Mister Romance e vuole scrivere un articolo su di lui. Pur di mantenere al sicuro il suo anonimato e quello delle sue clienti, Max sfida Aiden. Le concederà tre appuntamenti e se lei non si innamorerà di lui, Max risponderà a tutte le sue domande. Aiden accetta senza farsi senza esitare, sicura di poter resistere. E se fosse Max invece a innamorarsi di lei, cosa succederebbe? Allora, dalla trama è tutto un programma. Qui viene appunto il personaggio di Aiden che è l'antiromanticismo fatto a donna. Purtroppo a causa appunto del suo bel bagaglio di problemi, lei proprio nell'amore, nel rapporto di coppia, nel per sempre felice e contenti, proprio non ci crede. A lei basta incontrare qualche uomo al bar, portarsela a letto per una notte ed è finita lì. È proprio come un uomo, ecco. È stato bello leggere per una volta di una femmina outsider, che è una donna, a essere, non dico, una playboy, ma quasi, ecco. Lei non promette mai niente, al di là di una notte di puro sesso, a puro scopo del piacere personale. Non fa illusioni, non dà illusioni a nessuno, non promette secondi appuntamenti. Lei proprio è per una botte via, ecco, diciamo. Non crede nei rapporti, non vuole un rapporto di coppia, assolutamente. Non vuole un rapporto fisso. Qui c'è il cane che sbuffa, perché ha mangiato come un buio. Oggi è ferragosto, sto girando la sera dopo la sera di ferragosto. Non vuole, insomma, lei, tutto ciò che conta è realizzarsi nella sua carriera. Lei, infatti, è una giornalista che lavora per questa, diciamo, rivista online e non pubblica articoli che struzzicano il suo interesse. Quando la sorella Asha le parla, che è l'opposto di lei, le parla appunto di questo fantomatico Mr. Romance, la lampadina le si accende e fa di tutto per rintracciarlo. E appunto il nostro Mr. Romance è appunto Max. Max è un personaggio che anche lui ha il suo bel bagaglio di problemi e diciamo che nel fare Mr. Romance, diciamo che nel fare queste cose lui cerca, diciamo, una espiazione per ciò che ha fatto in passato, che non vi rivelo perché sennò sarebbe uno spoiler. Max appunto è un personaggio che crede, diciamo, nel romanticismo invece ed è veramente capace di attuarlo, di regalare ogni donna la propria fantasia, ha questo grande talento e lo utilizza appunto come mestiere. E non c'è niente di male, mi dico io, finché non si fa del male a nessuno, secondo me. Poi lui ha una regola, niente sesso, niente contatti inopportuni, quindi non lo si può neanche definire un cicolò. E' un po' come un benefattore che aiuta le donne, soprattutto quelle dell'altra società, che vengono utilizzate dai mariti pezzi di merda, perdonatemi l'espressione colorita, come dei trofei o dei ninnoli da sfuggiare solo in occasioni speciali, invece poi le trattano veramente di merda, perdonatemi l'espressione, le aiuta a ritrovare la fiducia di loro stesse, a riscoprire il romanticismo che credevano di non vivere più. E questa è una cosa bella, non c'è niente di male. Non si prende in giro nessuno finché tutti sono consensienti, ma Aiden non è dello stesso parere. Per lei, Mr. Romance è un truffatore che sfrutta le debolezze di queste povere donne frustrate per fare dei soldi. No, bisogna guardare, cara Aiden, proprio Aiden si vede che è il cinismo fatto a femmina all'inizio, all'inizio. Max piano piano dovrà scavare a fondo per farsi strada nel cuore di Aiden, ma anche Aiden riuscirà a scalfire il muro che Max alla fine si è costruito attorno a lui, perché comunque sì, lui regala il romanticismo alle donne, ma non sente di meritarselo, non sente di meritare l'amore. Lui si vede proprio come un uomo di merda, ecco, scusate, avevo detto merda cento volte, ma ci sta ragazzi, ci sta. La loro storia è veramente bella, è veramente coinvolgente. La Isra Even poi ha questo stile veramente scorrevole, è veramente bello che unisce commedia a quel pizzico di drama, di angst, ma anche riuscite a strappare grosse risate anche appunto col personaggio di Nanabeth, che secondo me è un personaggio fantastico, che è la nonna di Aiden. Poi c'è Asha, come ho detto, che è la sorella di Aiden, che è tutto un programma e io voglio un libro su di lei. Voglio un libro su di lei e su Toby, che è il collega hacker di Aiden ed è uno spettacolo. Abbiamo anche Derek, che è il caporedattore di Aiden, che è uno stronzo al quadrato. E poi c'è anche Dyson, che è un personaggio che secondo me ha del potenziale. È stato espresso troppo poco qui, ma secondo me ha un gran potenziale. Come ho detto, poi la storia tra alti e bassi si sviluppa, i due riescono, il processo loro di conoscimento, anche di innamoramento, è bello. È bello, è fatto bene, sapete che io adoro quando c'è il percorso, quando c'è il processo, non quando tutto accade. Bim, 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 quando c'è la bombata, subito, proprio subito la scintilla non è che mi piace. Io voglio vedere proprio lo sviluppo, l'evoluzione del sentimento, del rapporto, qualunque esso sia. Mi piace da impazzire, soprattutto se è reso bene, come in questo romanzo, a cui io do un quattro stelle veramente pieno, perché la stella è veramente bella. Si parte con il presupposto che Eden debba mascherare le vere intenzioni di Max, ma invece poi tutto cambia. Ecco, si scopre un universo completamente nuovo ed è veramente bello. È bello poi vedere il personaggio di Eden messo in difficoltà da quest'uomo che riesce a infrangere le sue barriere, ma è bello anche vedere, comunque è narrato quasi tutto dal punto di vista di Eden, quindi avrei avuto anche qualche po' di Max, sinceramente, ma si sente comunque l'Aleisa Leiva e riesce comunque a farci percepire che anche il suo, anche il muro di Max, piano piano, si sgretola in presenza di Eden. Quindi, come detto, un quattro stelle pieno per questo romanzo, veramente se cercate un romance bello, coinvolgente, romantico, divertente, che vi faccia staccare, ma che vi regali anche quelle emozioni che soltanto il romance più puro e più scritto bene sa donarvi, non fatevi scappare il vostro, il grande Mr. Romance. Bene, questa recensione si conclude qui, io spero che vi sia piaciuta. Vi ricordo, come sempre, che nell'info box trovate il link del blog con tutte le info riguardanti il libro, prezzo, trama, numero di pagine, case editrice, tutto quello che può servirvi per farvi un'idea. Troverete anche i miei social, Facebook, Twitter, Instagram, avete a trovarmi, seguitemi, mettetemi like, che mi fate tanto, tanto contenta. Iscrivetevi al canale al blog, se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche. E se questo video vi è piaciuto, mettetemi un bel like e condividetelo. Vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video, alla prossima recensione. Ciao a tutti!